Siamo qui intervenuti alla fiera del Climhouse 2017 per presentare il nostro prodotto speciale Drain Beton, calcestruzzo drenante, forno assorbente per applicazioni stradali, specificamente studiato e brevettato in Italia da Beton Rossi. È un calcestruzzo che può essere steso con macchine finitrici stradali esattamente come gli asfalti oppure con operazioni manuali con attrezzature tipiche da pavimentista. Può essere fornito in varie colorazioni naturali pigmentate oppure con colorazioni post stesa con particolari soluzioni mineralizzanti e colorate.